L'amore e la gelosia sui social. Accominciamo. Caro amico, ovviamente non sono d'accordo con te, perché per me il cellulare è solo un amplificatore. Come dire, se tu sei farniello prima, col cellulare sei solo più farniello. Nessuno ti viene a bussare alla porta e ti dice senti, devi guardare i video di quella donna assolutamente, devi chattare con uno e devi chattare con un altro. Il cellulare è un po' come il coltello. Il coltello è stato creato per tagliare il pane, la carne, tutte le altre cose. Se col coltello ci tagli l'acqua, non serve a niente, è sprecato, è così pure il cellulare. Non è il cellulare che tenda, sei tu che scegli di usare male il cellulare. La prima regola per non creare gelosia quando hai l'amore su un social è molto semplice, più che altro è una domanda. E la domanda da farti è ma se questo video, se questa live, se questo commento a quest'uomo, a questa donna lo facesse lei o lui, a me, ma bruciasse, mi darebbe fastidio. Ora, se tu coscienziosamente rispondi a questa domanda e la tua risposta è no, ok? E fai il video e magari il tuo lui o la tua lei, come dire, non interpretano bene quel messaggio e fanno all'ora volta la cosa che hai fatto tu, non ci rimanere male, capito? perché tu hai dato il là per dire come comportarsi. Se invece ti dà fastidio, ritorna su te i passi e cerca di fare di qualcosa che sia più rispettoso per il tuo compagno o la tua compagna. La seconda regola per non creare gelosia sui social è sicuramente quella di capire perché il nostro partner sta sul social, in che modo usa il social. E' normale che se uno pubblica video di lavoro, crea contenuti, è una persona che con quello ci guadagna perché magari ecco fai il musicista, si mette a suonare e fa pubblicità le sue canzoni, non puoi essere gelosa perché è quello inerente alla sua vita. Se invece una persona prima che ti conosceva stava sui social perché magari voleva ampliare la sua cerchia di amicizia, perché magari cercava altre donne, perché si annoiava, eccetera, eccetera, è normale che se sei entrata tu nella sua vita questo deve cambiare, ma solo per un semplice fatto, perché se sei innamorato, tu la compagnia la cerchi con quell'altra persona perché tu piuttosto che fare una live e parlare con donne o con uomini, vuoi parlare con la tua donna, con la tuo uomo, scusatemi, avete capito? Quindi se questo non avviene vuol dire che l'interesse non è così alto e allora a quel punto è normale che nasce una sana gelosia, più che altro lo punte domanda. La terza regola è molto semplice, non facciamo tutti quanti sciolte e disinvolte e poi c'era fastidio e tutto questo. Mettete subito in chiaro quali sono le cose che vi dà fastidio e quello no, perché sembra retro che uno è geloso. Io sono gelosi e a me certe cose mi danno fastidio e lo dico subito, punto, così patti chiari e amicizia lunga. Avete capito? È molto semplice. Buona vita! Chiari! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.